Come va col cane? Il cane è bene. Facciamo le luci delle questione d'audio. Fatevi tanto controllo. I peli che ho tosso. Non è un cane slow quello. No, per niente, ultimamente. No, da quando ce l'ho. Ma io quale telecamera devo guardare? Perché non ho tre. Tutte e tre contemporaneamente. Ecco. Andiamo slow, eh? Andiamo slow, vai. Andiamo slow. Sergio Valentini a Trentino Cult. Alla locanda delle tre chiavi proponi menù a chilometri zero. Cosa significa? Ma il chilometro zero, che a me piace più chiamarlo filiera corta, significa fare ricerca sul proprio territorio a breve raggio di piccoli contadini e buone produzioni da poter poi trasformare nel nostro ristorante. E così con la speranza che tanti altri ristoratori lo possono fare. Certo che non tutte le cose si possono trovare a breve raggio, però tutto quello che si può trovare di buono è necessario che ci si impegni a utilizzarlo nei propri ristoranti. Senti, ma in tempi di pause pranzo rubate al lavoro è ancora possibile fare cultura con il cibo? Assolutamente sì, perché quando noi portiamo un piatto a tavola abbiamo un potenziale immenso di trasmissione della cultura gastronomica che abbiamo sul territorio. Per cui con un breve messaggio raccontando che prodotti stai facendo assaggiare ai tuoi clienti racconti un pezzo di cultura del territorio. Per cui anche in un breve momento di pausa pranzo si può fare. E tutto questo è mangiare slow? Sì, non basta. La buona pratica è che ognuno di noi quando degusta o cena o pranza cerchi di scoprire sempre di più che cosa sta assaggiando, cosa sta mangiando ma soprattutto cerchi di approfondire anche il fattore ambientale. Essere slow, mangiare slow significa sicuramente salvare anche la sostenibilità dell'ambiente e lo si fa attraverso il cibo, per cui io degusto, conosco, vado poi a conoscere il produttore vedo come lavora nella sua azienda e mi rendo conto quanto è rispettoso questa persona del proprio lavoro, del proprio ambiente. Allora si mangia anche più felici. In Trentino quanto andiamo veloci o lenti? Cioè si può ancora mangiare slow in Trentino? In Trentino io noto che c'è una crescita assoluta anche nella ristorazione piano piano anche nell'alberghiero della volontà di mettere dei cibi tradizionali sui piatti e farli proporre anche ai turisti che ne abbiamo anche troppi ma spesso voglio dire abbandonati da un punto di vista gastronomico. Negli ultimi anni un gruppo di ristoratori si sta mettendo sulla strada giusta della tradizione, del percorso gastronomico e del mangiare slow sicuramente. Costa di più mangiare slow? No, questo lo dobbiamo assolutamente sventire. Si crede e si dice ancora che sia una nicchia mangiare slow ma assolutamente è una bugia, una menzogna assoluta perché mangiare slow vuol dire mangiare cose più buone, più salubri mangiare slow significa sì, magari apparentemente spendere di più ma dura molto di più il cibo che tu paghi di più un buon olio d'oliva extravergine del Garda Trentino una buona farina per una polenta come della Valsugana, del mais di spino o altro è una ricchezza da un punto di vista alimentare che anche se costa quel mezzo euro in più ti dura di più e alla fine nelle tasche ti rimangono i soldi di prima. è stata un'avventura, la prima edizione è un'avventura perché è nata molto all'improvviso su una volontà di sinergia tra un festival d'Oriente Occidente e Slow Food Trentino ho accolto subito questa richiesta e abbiamo messo in piedi un evento che ha portato tutte le progettualità di Slow Food negli ultimi anni, per cui tutti i piccoli produttori i presidi Slow Food, le comunità del cibo, i laboratori del gusto, i master tutta una serie di peculiarità che Slow Food ha creato e ha dato ai suoi soci, non solo messi su un corso Rosmini di Rovereto fantasticamente aperto, inaugurato da noi dopo anni che non era mai stato aperto o chiuso al traffico per meglio dire è stata una grande manifestazione, Terre poi ha messo in piedi anche il discorso dell'interculturalità con il bistro del mondo, per cui abbiamo avuto le comunità del mondo che vivono in Trentino che hanno preparato i cibi, hanno portato la loro musica, la loro arte, è stato veramente una forza intensa di scambi sinergici sia tra le associazioni che tra le persone L'ennesimo festival è tema oppure c'è qualcosa di nuovo e cosa? In Terre non lo chiamerei neanche un festival ma è proprio la rappresentazione ogni anno del territorio trentino nella sua innovarsi, nel suo innovarsi di tradizionalità della produzione, nel suo innovarsi nella ricerca di alleati, agricoltori che si mettano insieme per poter fare delle piccole comunità del cibo e per cui l'evento di Terre 2010 non è altro che un aggiornamento costante del territorio messo ovviamente in un contesto di evento, anche di festival, ma per dare una rappresentazione concentrata in pochi giorni è un enorme pubblico, una massa enorme. Sergio Valentini, credere nel gusto delle cose è un antidoto per non diventare un imprenditore stressato? Beh, sicuramente rende un po' più gioioso il nostro lavoro perché il lavoro della ristorazione io lo ritengo uno dei più difficili perché ogni giorno sei nella tua prima scena, si apresi pario, ogni giorno non sai cosa ti accade al tavolo perché i clienti sono diversi, viva la biodiversità, anche quella umana è enorme e tu devi saperli accogliere a ogni momento. Certo che portando poi in tavola buoni prodotti, raccontando le storie delle persone che li fanno, educando anche i tuoi dipendenti allo stesso modo, questo è un piacere, la gente lo nota e lo percepisce positivamente per cui ritorna anche solo per questo, oltre perché si mangia bene in tanti posti. Grazie. Grazie a voi. Grazie.